Gentili telespettatori, buona giornata. Al sud c'è stato il sorpasso. Ci sono già più pensionati che lavoratori. Il sistema così pensionistico statale va dritto verso il fallimento e per non farlo fallire, cosa bisogna fare? Bisogna alzare l'età pensionabile e diminuire l'importo della pensione. Più pensionati che lavoratori? Non c'è altra soluzione, altro che cancellare la legge Fornero, che poi è la legge attuale delle pensioni. Si andrà sempre di più verso un aumento dell'età pensionabile e una diminuzione dell'assegno pensionistico. Ecco, l'Italia è un paese di santi poeti navigatori e di pensionati. Ecco, dice così la CGA di Mestre. Sono state pagate al sud 7,2 milioni di pensioni contro 6,1 milioni di contribuenti. La situazione è poco migliore nel conteggio nazionale, dove il rapporto è sostanzialmente di 1 a 1. Ci sono 22,7 milioni di pensionati e 23,1 di occupati. Cioè, gli occupati, quelli che lavorano, sono 400 mila in più dei pensionati. Questa è una media italiana, dove ci sono, come vi dicevo, al centro-sud più pensionati che lavoratori, al nord più lavoratori che pensionati. Fate la media e praticamente c'è un lavoratore e un pensionato. Quello che una persona attiva lavorativamente paga di tasse finisce a un pensionato, più o meno, facendo un calcolo di questo tipo. Il dato è preoccupante, ma molto preoccupante. Secondo i conti dell'Associazione Artigiani, infatti, tra il 2023 e il 2027, il mercato del lavoro italiano richiederà poco meno di 3 milioni di addetti in sostituzione delle persone che raggiungeranno la pensione. E sarà una ricerca non facile, visto l'andamento demografico del paese, che è sempre più vecchio. Mentre al centro-nord il saldo lavoratori pensionati è positivo, con il picco in Lombardia, dove i lavoratori sono 733 mila in più dei pensionati. Ma nelle regioni del sud il conteggio negativo, in pole position, in testa alla partenza c'è proprio la Sicilia, con tra lavoratori e pensionati meno 303 mila. Naturalmente stiamo parlando di lavoratori regolari, poi in Italia abbiamo 4 milioni di lavoratori a nero, come si dice, giusto? 4 milioni o di più di lavoratori senza contratto invisibili al fisco, che poi avranno la pensione minima, eccetera, eccetera. Pertanto la situazione è ancora peggio di quella che si racconta. E poi abbiamo il problema della denatalità, l'invecchiamento della popolazione, i lavoratori a nero, come si dice, o irregolari, senza contratto. La combinazione di tutti questi fattori sta riducendo il numero delle persone che contribuiscono al sistema pensionistico, cioè i contribuenti. E così si va ad aumentare l'età pensionabile, a diminuire gli assegni, taglia le pensioni. Un giorno si arriverà che bisognerà lavorare fino a 75 anni e poi continueranno una pensione al 75 anni di 400 euro, sperando che tu non stia a gravare fin troppi anni sul sistema. Ecco, alla fine finirà così, purtroppo. Altro che arrivare alla gognata pensione, adesso mi riposo, no. Devi lavorare finché hai le forze. Quando poi non riesci più neanche ad arrivare al bagno, allora ti dicono ti do la pensione, però cerca di non starci troppo al mondo. Ecco, questo è il trend. Questo è il trend. Sono finite, è finita la pacchia di tanti anni fa dove si andava in pensione a 57 anni, 58 anni. Oggi, fra poco ci vorranno 20 anni in più dei 58, 68, 78 anni. Naturalmente soluzioni miracolistiche non ce ne sono. E pertanto fare riequilibrare il sistema non si può, o meglio, per fare riequilibrare il sistema, come vi dicevo, devi abbassare le pensioni e alzare l'età pensionabile. Allora fai quadrare i conti ogni anno. Le stime dell'Istat parlano di 3 milioni di lavoratori invisibili. Secondo me sono molti di più, però parliamo di 3 milioni. E però, comunque, tutti i discorsi, l'Italia è il fanalino di coda per tasso di occupazione femminile pari al 50%, il governo sta provando a mettere a punto una sua ricetta che va dagli incentivi per chi resta al lavoro, sgravi contributivi per le madri con due figli. Nel decreto attuativo della delega fiscale c'è anche l'incentivo di 1,3 miliardi per agevolare le imprese ad assumere giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del RDC, reddito di cittadinanza. Poi, da gennaio 2024, arriva la ZES unica al sud con nuove agevolazioni anche fiscali perché investe in queste regioni. Naturalmente sono problemi che non è che puoi risolvere con una legge, sono cose che hanno bisogno di un cambio culturale, di un cambio di prospettive, non sono cose che... Adesso faccio una legge giovedì, ho risolto. Eh no, purtroppo il sistema pensionistico in Italia è arrivato al collasso. Quindi capite che la legge Fornero non era una legge cattiva fatta contro gli italiani da un mostro, la Fornero. Semplicemente era quello che andava fatto, perché se no il sistema e lo Stato non reggeva. Sono stati all'improvviso alzati all'età pensionistica, allo scalone, tutte quelle cose lì, perché il sistema era vicino al crack, al fallimento. Quindi non è che la Fornero era un'entità demoniaca che era contro i poveri italiani, ha fatto quello che andava fatto. Quindi oggi Salvini è 13 anni che dice cancelliamo la legge Fornero, è stato al governo un sacco di tempo e non c'è mai riuscito perché semplicemente non si può. Non è che non si vuole, non si può. I soldi non lo permettono. Arrivederci a tutti e grazie.